Ciao, creatura, io sono Vecate, splendente, benvenuta, bentornata nel regno di Scusa, I, I, S, M, A Questa sera pulizia delle orecchie, rinfrescante spero, perché sia per te, rinfrescante E' piena, piena, piena di tingles Andrò ad indossare dei guanti proprio da casalinga, da Desperate Housewife Perché questi fanno dei suoni ancora più belli, ancora più belli di quelli da infermiere, diciamo, da quegli altri Poi hanno anche questo colore, rosa, rosa fucsia E sono anche della mia perfetta misura S Perché nonostante io sia alta un metro e settantatré, ho le mani piccole Poi 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 tempo fa che provavamo insieme, sperimentavamo insieme i suoni per questa tipologia di video ti consiglio vivamente di indossare le cuffie, così potrai sentire meglio tutti i suoni e l'effetto fantastico che fa questo microfono indossando le cuffie comprendo che non tutti riescono a provare e a sentire io per esempio con queste cuffie e con questo microfono ho ne ho da ho ne ho da ho ne ho da che tocco un orecchio di silicone di questo microfono mi sembra mi sembra di sentire il tocco sulle mie orecchie però non so se anche per te è lo stesso mi piacerebbe saperlo mi sembra di scriverlo mi sembra di scriverlo mi commenti mi sembra di succedere ma mi sembra ma mi sembra ma mi sembra mi sembra voi semplicemente i charm you like, like veloce like, like veloce come polizia delle orecchie avevo pensato di iniziare pulendoti delicatamente 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 le stelle delle orecchie con questi questi cotovio anche a te va bene? se per te va bene? se per te va bene? se per te va bene? ok perfetto dammi ingegno perfetto poi poi vorrei provare una cosa che non ho mai provato dopo vedo 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 adesso vedo i vedo vorrei mettere della carta come si chiama questa? questo tipo di gelofono non so, non mi ricordo più come si chiama questa qui intorno alle tue orecchie e poi vorrei spruzzare spruzzare, spruzzare, spruzzare questa soluzione questa soluzione questa soluzione questa soluzione fresca rinfrescante 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 all'interno per nonno danni gioare danni gioare danni gioare i tuoi timpani i tuoi timpani che cosa dici? proviamo ok creatura proviamo insieme proviamo insieme proviamo insieme proviamo insieme ho provato a provato a spostarmi perchè non so mai non so mai non so mai non so mai se sono centrata nell'inquadratura creatura ok creatura possiamo iniziare con la polizia e stanno con 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 trillac se ti faccio troppo solletico che è fastidioso dimmelo pure così posso regolare quanto premere o no il contro gli occhi contro gli occhi contro gli occhi qui non sono dentro quindi rilassati non preoccuparti non posso danneggiarti nulla hai un sacco di polvere eppure ho visto che ogni sia ogni giorno che fa la noccia non c'è nulla alcuna vergognare può succedere oggi pensiamo di ascoltare oggi pensiamo di ascoltare in realtà pensiamo di ascoltare che sentire sentire altri sentire 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 talmente a concentrare a pensare a pensare risposta giusta da Dario e non stiamo ascoltando davvero la persona la persona la che ci stava parlando che ci stava parlando che si forma la polvere non è intendo si ma non l'essere si 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 adesso le belle belle poulite belle poulite sono molto molto curiosa di provare a spruzzare la soluzione rinfrescante sulle due ore che impacchettate impacchettate non prendere la misura per tagliare la carta giusta ok 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 senti le cuffie, quelle per fare la doccia e metti in testa, per non bagnarti capì, esistono versioni piccole a piccole per le orecchie, per non sporcartele, credo, durante la tinta, sarebbero servite adesso. Ma noi ci arrangiamo, only to eat yourself. ArceAT è in ero rollo per gli baffi. Non, non leggete, nessuno muss pagare la d fictionalità partecipata diицinale, nonrolle che svolgero bell'Phone. Sulla l'occhi, si, 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 in giù. che bello mi conviene anche mettere ecco qualcosa sopra all'altro microfono che non voglio fare andare tutto in corto circuito proviamo troppo forte devo stare più indietro è bellissimo allora se si sta indietro è bellissimo perché a parte che è tipo nebulizzante ma anche si sentono ogni gocciolina cadere e appoggiarsi appoggiarsi delicatamente sulla plastica sul copri orecchie do it yourself sparisco dall'inquadratura ma sto spruzzando ah è bellissimo è bellissimo mi sento già più fresca mi sento già più fresca la sirena però non ti ripeto così ultimo spruzzatino ultimo spruzzatino bella io io mi sento molto più fresca e tu creatura ti senti rinfrescata ecco ecco ora ti farò un po' di soledico 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 pescara prima una сожалo su facilità ora Questi guantini hanno una texture tipo ruvida a quadrattini e mi piace il suono che fa quando li sfrego l'un con l'altro anche i sbrigati dalle tue orecchie ma anche un massaggio molto 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 tricchieroso tricchieroso ventura spero 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 che questo video che sia piaciuto grazie per rispettare 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 per rispettare 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 grazie 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 creatura io come sempre ti auguro buonanotte 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 ciao creatura buonanotte